Il tour del film A.D. in Toscana prosegue, adesso siamo a Firenze davanti alla facoltà di lettere. Un'altra degli impegni importanti che il governo deve prendersi è quello di dare un limite massimo alla tassazione per ogni Ateneo e prevedere anche delle sanzioni per quelle università che vi erano questo patto.